A te in studio si parla di me! Ahahahahahhaha! Corso! Discusate, ma lei come fa a me sapere. Lo so e basta! . . . . Ah, ragione, ma stossi, come va, come va, eh? Ah, a piacere, allora facciamo una cosa. La gente dice che a volte rispondere guardi che non ritornate, è chiaro? Ma che succede? Suggestione ce lo facciamo, cucina base, ve lo so il corretto, va. Gio. Ma sono un cavolo, è chiaro? Guardatevi le mostre. Grave. Il telefono prima. Gio. 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 Siamo dentro i pomeriggi, ci faccio trovare un filoncino speciale, vanno per il tuo intento. Allora, tu non è con me, diciamo, le cinque dati, per lei il filoncino speciale c'è sempre. Sono diabolico nell'amplesso, sprucchi in letto e qualche riguardo le dimensioni di senso. E se trovo la sonnata... Eh, ma perché change? L'ho visto cento volte. Eh, io non l'ho visto. Noi. Perché mi piace la pace di Angela. Lo guarda. come si dice amore? amore, il monkey come si dice amore 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 il carito della signora Pina Pardozzi ah oh questo puoi avere 700 mila lire di repito ma che c'è pari con tutto a sua parola? lo domandi qui a suo riposo insidia insidia la mia signora qua qua vediamo siamo morti ahhh lei è il collezionista dei most quello che c'è il mostrino piccolo è il mostro un po' più lungo se avessi stato una grande soddisfazione avessi completato una così bella collezione bravo qui tutto parlo da voi guardate dentro i corti e tutto fantoso fantoso pensi che era il suo pensare a un certo punto la signora probabilmente la lo dice Codogno l'unica roba che potete fare è ha fatto un bel viaggio a Ruth tutte e tre ha fatto un bagno da una piccina e ci ha fatto il solo spettano un miracolo in cui si io sono nanco un bel viaggio io sono state l'unica roba che è stille